Ragazzi in Aula è un'iniziativa del Consiglio regionale che da 14 anni offre agli studenti delle scuole superiori piemontesi la possibilità di vivere da protagonisti una seduta di assemblea, nel corso della quale vengono presentati, discussi ed eventualmente approvati progetti di legge elaborati da loro stessi. In vista dell'evento centrale del 2 dicembre, nell'Aula Consigliare di Palazzo Lascaris si svolgono degli incontri formativi con gli studenti che simulano i lavori di una commissione permanente e presentano il loro progetto di legge. Con l'aiuto e il supporto di funzionari e dirigenti del Consiglio vengono anche illustrati ruolo e funzioni della Regione e dell'Assemblea Legislativa. Grazie per la visione!